Programma principale, manuali, rulli, taglio a filo, su e giù, beccucci girevoli, tagli avanti e indietro, ricette, scelgo la schermata del biscotto, faccio un biscotto normale, entro nella ricetta, vario un valore, voglio salvarmi questa ricetta, do un nome, enter, e salvo. Altri particolari del programma, giusto per mostrare. Uscita a teglia, decido se far uscire la teglia attraverso di me o esterno, abbiamo le collate da fare, le collate fatte, il numero di teglie da fare, il numero di teglie fatte, poi abbiamo testa a pompa, testa normale, lingue. Le altre pagine brevemente di un programma, giusto per capire. Il programma iniziale, prima, seconda schermata, l'estrusione, il secondo tavolo, il terzo tappeto, beccucci girevoli, programmi, tutte le modifiche dei parametri e infine il dettaglio sulle tele, perfetto, bene, grazie.